Ciao a tutti dalla Bumbo Family! Io sono Ele e è una giornata tempestosa come oggi Ci vuole proprio una cioccolata calda Questa qua Non questa ma l'acqua con l'altra Buonissima Proviamola Teniamo qui Dai, manda Non giriamo perché forse è già... Com'è? Com'è? È buonissima! Tu tutti i giorni mangi la cioccolata così, vero Ele? Sì Sicuramente, non ci vedo Mi vedi? No! No, mettiamo facciolette, facciolette Facciolette, facciolette Ma io Buono Buono No, 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 no No, è pente, faccia, faccia No, no, no È meglio che non lo siamo No, 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 no Non ti prego, non ti ha No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ma io non ho acqua Beviamo Basta non ci vedo non ci vedo non ci vedo non ci vedo gli occhi, gli occhi, pulisimi gli occhi puliamoci gli occhi no 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 con le mani con le mani no no basta ciao ciao basta no 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 basta è una tortura si non è ciao ciao questo acquistamento è stata bellissima non ci vedo e basta ciao ciao